Oh no! Xana è la superpotenza virtuale che vuole annientarci tutti. Aelita è l'unica a poter disattivare le torri, e il nostro lavoro è darle una mano a farlo. Intendi dire... come si chiama? Su... Gioco? No, su Lioco! 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione